www.redigio.it e la storia continua La topografia manzoniana La corsia del Duomo Chi volesse percorrere a ritroso l'itinerario seguito da Renzo dal convento dei Capuccini a Porta Orientale alla casa del vicario di provvisione in quel fatale 11 novembre del 1628 e vi è sull'argomento della topografia dei Promessi Sposi un vecchio studio del Bindoni che converrebbe rispolverare e dovrebbe, dal Cordusio, dove sono i sollevati troveranno il forno ben difeso dai Micheletti percorrere la strada dei Fustagnari infilare la piazza Mercanti dalla Porta Cumana percorrere fino al palazzo dei nobili giure consulti custodito dall'arcino simulacro di re Filippo e il broletto nuovo e uscirne per la pescheria vecchia della piazza del Duomo costeggiare il coperto dei figgini indi percorrere la corsia del Duomo o contrada del compito fino alla corsia dei servi e ritrovarsi il prestino degli scansi ed è inutile dire che non troverebbe più la via Fustagnari nella Porta Cumana o quella della pescheria nel coperto dei figgini dove troverebbe sventrata e scomposta la piazza dei mercanti e appena riconoscerebbe sotto le mascherature la medievale torre del broletto che recava in cima la campana del comune e dalla quale si esponevano in particolari circostanze le teste mosse dei suppliziati di riguardo ma superati i palazzi mengognani conviene far sosta in quella che si chiamava corsia del Duomo dove allora l'alto palazzo della nuova rinascente se veramente spoglio di ornato sarebbe incrostato di marmi fronteggia la mole marmorea del Duomo e cercare quanto dietro ai superbi palazzi nuovi quanto resta dell'anima nascosta della vecchia Milano il vasto quadrilatero compreso fra le vie dell'agnello e quella di San Raffaele dominato verso la piazza del Duomo da due grandi edifici di costruzione recente non palesa a prima vista nessuno dei suoi molti segreti eppure è un luogo grave di storia e ricco di leggende e ancora nella cerchia della città romana si è anche presso i suoi margini e gli scavi di fondazione dove le scavatrici meccaniche lo hanno permesso hanno dato luogo a qualche interessante ritrovamento di bronzi e cocci nel fondo dei polsi dell'età romana ma la tradizione vorrebbe qui collocare un tempio pagano che Giovan Battista Castiglione pretende dedicato a Diana da una Valeria Albuzia maggior fondamento all'opinione espressa da Tristano Caico che presso San Raffaele vuole l'edificio termale cantato da Usonio che invece secondo errate deduzioni in credito fino ai nostri tempi era del Grazioli in poi e riconosciuto nel gruppo monumentale di San Lorenzo dopo la vittoria della dottrina di Cristo il trapezio formava parte dell'area sacra ma che una corona di sacri edifici determinava intorno a Santa Maria Maggiore Basilica Metropolitana Iemale quattro di questi erano chiese minori che portavano i nomi angelici di San Raffaele San Michele San Turiele San Gabriele due erano i battisteri il battistero dei maschi e di San Giovanni alle fonti quello delle femmine o di Santo Stefano a questi edifici minori che insieme con la metropolitana compivano il biblico numero di sette presiedeva una unità concettuale a cui forse corrispondeva una conformità di forme e di aspetti la sola superstite della mitica e mistica corona la chiesa di San Raffaele che non conserva più nulla della costruzione primitiva che era del tutto semplice a giudicare dalla planimateria del XVI secolo che è anteriore alla ricostruzione pianta in figura di rettangolo a una sola nave pronao interno presbiterio rettangolare copertura presumibilmente di legno a capanna e capriate in vista non molto diverse potevano essere le altre chiese dal nome di Arcangelo quanto ne vediamo oggi è il rifacimento ordinato da San Carlo Borromeo che ne fosse l'architetto non risulta documentato ma dalla costante tradizione come dal disegno originale della facciata che Malaguzzi Valeri trovò perso nell'archivio di Stato ne fu data la paternità ne fu data la paternità fino ai nostri giorni al Pellegrini ma ultimamente dal confronto con altri disegni del tempo e da considerazioni critiche il Rocco non dubitò di sostituirla con quella di Galeazio Alessi in realtà sembra dalla maniera dell'architetto perugino l'ordine inferiore della fronte sostenuto da Herme Barbute è un pezzo grandioso e pieno di originità secondo Mongeri e nel secolo scorso il Cesa Bianchi architetto del Duomo curò il compimento della fronte aggiungendo di suo a piano terreno le piante nei modi del Pellegrini e tutto l'ordine superiore e non essendo purtroppo a conoscenza del disegno originale che avrebbe dato lo spunto a un partito architettonico unitario di maggior respiro pur nelle sue dimensioni limitate le due ali laterali rispondenti alle navi minori avrebbero essere meglio collegato il prospetto con gli alti fabbricati che lo stringono ai lati corse grave pericolo la bella chiesina quando nel 1902 il contiguo magazzino Bucconi avido di spazio ne sollicitò l'acquisto era stato da poco compiuto il vandalico sacrificio dell'arco dei fabbri e gli intelligenti Gaetano Negri in prima linea scongiurarono questa nuova distruzione ultimamente la curia fece della chiesa la sede dell'opera dell'adorazione perpetua ed è sperabile che in questo l'abbia messa al riparo da nuove minacce di spazio la sede di spazio